Sostanzialmente in questo momento devo dire che devo fare un bravo ai miei concittadini, ai miei cittadini perché stiamo vivendo questa situazione con difficoltà sicura ma con un atteggiamento di rispetto delle prescrizioni e di rispetto delle regole nella stragrande maggioranza dei miei cittadini. È chiaro che le difficoltà ci sono da un punto di vista sociale, molte famiglie sono in difficoltà e il Comune ha messo subito in piedi degli aiuti specifici oltre a quelli dati dallo Stato per aiutare queste persone. Ci stiamo impegnando tutti, stiamo lavorando da squadra, cittadini e all'amministrazione. Per molti giorni, per molto tempo siamo stati uno dei Comuni che ha resistito di più ai contagi. Oggi il nostro Comune ha sei contagiati, però sono tutte persone asintomatiche e che comunque non hanno problemi di salute tranne un caso che invece è un po' più in difficoltà. Quindi siamo a sei casi.